Macro categoria Imprese, categoria Energy. Il premio è quello di Eccellenza dell'Anno, Innovazione and Leadership Energy AI Solutions. Andiamo a leggere la motivazione. Per confermarsi per il secondo anno, leader nella fornitura di energia elettrica per le piccole e medie imprese, in particolare per gli importanti progressi raggiunti nell'ambito dell'intelligenza artificiale, grazie ad approfondite attività di ricerca e sviluppo e la creazione di piattaforme ad hoc, come il motore Nestore, in grado di monitorare i margini e costi e supportare il controllo di gestione aziendale. Il premio va a Eviso. Do il benvenuto a Gianfranco Sorasi, amministratore delegato di Eviso SPA e Mauro Bellino Roci, membro del Consiglio d'amministrazione di Eviso SPA. Eccoli qui entrambi, bentrovati. Buongiorno, buongiorno. Bentrovati entrambi. Eccoci qui. Allora, io partirei subito per un commento a caldo e anche per capire che cosa significa ricevere questo riconoscimento dopo un anno così particolare. Usiamo questa parola all'anno del 2020 a Gianfranco Sorasi. Gianfranco, a lei. Buongiorno a tutti. Certo, è un grande onore ricevere questo premio, soprattutto nel 2020, un anno difficile e quindi un anno, tutti noi sappiamo che il Covid ha portato, ci ha spinto a prendere iniziative anche molto importanti. Noi nel 2020 abbiamo accelerato in modo importante sulla piattaforma di intelligenza artificiale, siamo riusciti a lanciare dei prodotti molto interessanti per segmenti anche diversi, quindi continuiamo a fornire energia alle aziende italiane, abbiamo introdotto il gas, nuova commodity, abbiamo sviluppato un motore di intelligenza artificiale specifico per il settore reseller e quindi riusciamo ad aiutare i nostri clienti reseller ad essere più veloci, più veloci nei servizi, più veloci negli incassi, quindi veramente è un anno di difficoltà organizzativa ma che ci ha permesso di sviluppare nuovi servizi, nuovi prodotti per riuscire poi a cogliere speriamo una ripresa del 2021 che sarà vigorosa. Grazie a voi, ci mancherebbe aver puntato su innovazione, sviluppo, ricerca sicuramente può dare un'impronta ancora più netta per guardare al futuro, su questo do subito anche la parola a Mauro Bellino Rocci, ricerca, sviluppo, la creazione di piattaforme ad hoc, abbiamo sentito per esempio il motore Nestor e si parla di intelligenza artificiale, insomma mi pare che ci siano tutti gli ingredienti ideali per guardare al prossimo anno. Sicuramente, come Gianfranco ha parlato e ha spiegato la parte tecnologica io vorrei spendere due parole e dare un ringraziamento a tutti i nostri ragazzi, a tutti i nostri dipendenti e anche i direttori perché dietro tutte queste cose di intelligenza artificiale e tutto c'è sempre però la mano dell'uomo. Abbiamo una squadra motivata, giovane, preparata che dà sempre nuove idee all'azienda, ai direttori e quindi grazie a questo mix di tutti riusciamo a fare grandi cose, grandi passi e poi tutto questo è aiutato dalla tecnologia e dai big data e dai dati che è quello che meno male con intelligenza artificiale riusciamo a sviluppare. Però siamo contenti, siamo soddisfatti, quest'anno è stato un anno un po' difficile per tutti come giustamente ha detto anche Gianfranco, lavoriamo in smart working, siamo fortunatamente adesso usciti dalla zona rossa alla zona arancione però continuiamo a lavorare in smart working, siamo strutturati per lavorare in smart working, riusciamo a dare sempre al cliente la massima assistenza e il massimo supporto, ci siamo attrezzati con anche delle conferenze via conference call con Zoom o con le varie piattaforme proprio per soddisfare e stare sempre vicino al cliente e dargli tutte le risposte che ci chiede. Diciamo quindi un lavoro di squadra e di equip che ci permette di arrivare a questi risultati e siamo soddisfatti e siamo fiduciosi. Beh insomma un'ultima battuta da entrambi, ritorno da Gianfranco, abbiamo sentito altri ingredienti che giustamente Mauro ha messo in questa ricetta ideale, quantomeno che dovrebbe essere ideale per l'anno prossimo, anche la gestione dei clienti che sicuramente si è modificata nel corso di quest'anno ma che grazie poi a tutta una serie di competenze sviluppate delle persone, anche questo punto è fondamentale, bene le macchine ma sono le persone che devono saperle utilizzare, insomma dicevo anche la gestione dei clienti è stata fondamentale immagino in questo anno, perciò come proseguire? Ecco questo è lo spunto ulteriore per entrambi. Senza dubbio quest'anno abbiamo imparato a gestire il cliente anche in modi molto diversi, quindi noi come viso abbiamo la gestione sia pre, quando dobbiamo e vogliamo convincere il cliente della bontà dei nostri servizi ma abbiamo un team di ingegneri e di personale di supporto tecnico che segue i nostri clienti nel cammino del risparmio e dell'efficienza. Prima gli ingegneri andavano fisicamente dai clienti per spiegargli e vedere insieme come ottimizzare la performance della propria società, del proprio ciclo produttivo, ci siamo inventati tutta una serie di nuovi strumenti sia via Zoom che via WhatsApp e quindi prima abbiamo sostituito quello che facevamo poi invece adesso abbiamo migliorato quello che facevamo prima perché la possibilità di utilizzare questi canali online permette di avere a disposizione anche team più allargati, non solo gli ingegneri, non solo i tecnici ma anche i commerciali e quindi di dare un servizio al cliente anche molto migliorato. Questo sia i clienti aziende che possono essere aziende agricole, bar, ristoranti, imprese metallomeccaniche, sia anche abbiamo lanciato dei nuovi prodotti per aziende anche molto strutturate che hanno un numero di stabilimenti sparsi su tutta Italia anche lì grazie alla tecnologia digitali e al team abbiamo ideato dei prodotti che già solo sei mesi fa non saremmo riusciti neanche a suggerire perché ormai tutti accettano di vedersi online ma sei mesi fa non era così quindi veramente il team, le nuove idee, la voglia di soddisfare il cliente ci hanno portato a sviluppare dei bellissimi nuovi prodotti e servizi. Ottimo, allora stessa, passo la parola a Mauro per le stesse conclusioni diciamo se vuole aggiungere qualcosa Mauro. Diciamo che ha già detto tutto Gianfranco, non c'è da aggiungere niente, continuiamo su questa strada, ci riteniamo un'azienda, una realtà che riesce ad adattarsi e ad adeguarsi alle varie esigenze del mercato sia per fattori esterni e sia per fattori che magari noi riusciamo anche a prevedere, cose varie e questo è un nostro punto di forza che negli anni passati ci ha permesso di arrivare fino a qua e sicuramente negli anni futuri ci permetterà di guardare avanti con ottimismo, con sviluppo e con creare nuovi servizi e nuove piattaforme e nuovi prodotti da dare ai clienti sempre per soddisfare le esigenze dei clienti e rendere sia l'aspetto dell'energia, perché di fatto il nostro focus ad oggi è sempre stata l'energia, un prodotto visto come risparmio, non solo un costo per le aziende e adesso in questi ultimi sei mesi abbiamo sviluppato altri prodotti sempre con base all'intelligenza artificiale che ci permette di aprire nuovi scenari, nuovi orizzonti e dare nuovi servizi e anche a nuova clientela. Ottimo, certo. Le cose sono ottimiste. Eh beh, sì, anche perché ricevendo un premio non si può che essere ottimisti, insomma, mi sembra di buon auspicio. Allora, in conclusione io rinnovo i miei complimenti e complimenti da parte di tutto lo staff delle fonti a Eviso, a tutto il team e naturalmente ringrazio Gianfranco Sorasi, amministratore delegato e Mauro Bellino Roci, membro del Consiglio di Amministrazione di Eviso S.P.A. Grazie a voi e complimenti ancora. Manuela, grazie, grazie alle fonti per il premio sempre molto gradito. A voi, a presto, a presto. Grazie a voi e a tutto il vostro staff. Grazie. Grazie. Grazie.